La mia vita è un po' faticoso, un po' per quelle ragioni che dicevo, spesso devo andare a parlare e lì c'è poi il conto. Soprattutto se poi devo fare anche un viaggio e tutto. Quando ci sono i ragazzi è un po' meglio, anche perché poi lo dice basta che uno si chiede sempre servirà, insomma che effetto avrà. Poi comunque non sono contrario, ora ci sono tante polemiche, si tende, c'è il rischio della retorica, soprattutto anche la televisione forse esagera, riempiono la testa della gente e poi per un anno magari non ne quadrano. E' un po' diluita come tutte le cose, che se no poi si viene a noia, come si suol dire. Però tutto sommato mi sembra un'ottima cosa, quanto serva, però lì non si può mai sapere. Non sono i numeri che contano, ma sta uno, due, che approfondiscono un po' per quello che pubblico questi libri, anche sulla Shoah, ne ho pubblicati tanti, ora meno per forza di cose.